Uno dei tuoi giochi preferiti Sì, sì, sì Bentornati cari ragazzi Abbiamo la scelta Gollum in colpi l'uomo fragile o Smigol in colpi l'orco crudele Gollum farebbe Gollum, ok, vabbè Quindi scusi, l'orco è un forte alleato Devo aspettare un quarto d'ora L'uomo fragile è inutile per noi Drammatico Ci rortureranno Ragionevole Le spie sopravvio Che cazzo vuol dire? Non lo so, facciamo un po' e un po' Sì, fai una cosa media Drammatico, ci tortureranno Ci ha usato, è debole, nasconde il suo cibo No, direi, instillagli il nubio Nasconde il suo cibo E poi dove lo nasconde? Che è così In culo Gollum ha vinto la discussione Quindi stiamo per uccidere l'uomo Stiamo per denunciare l'uomo fragile Ma no, verrai torturato per due anni Tu hai detto il tuo cibo Aprile il cibo Si va con gli altri Padonna che brutto Ma no, non è ragazzi A posto, possiamo procedere L'hanno ottimizzato La cosa bella è che questo gioco non verrà mai pacciato Io che ho comprato la copia fisica per paura che lo pacciassero Invece non verrà mai pacciato Ragazzi, purtroppo The Daleks si è ritirata dallo sviluppo Non avremo mai Questa posa Guarda che bello Non avremo mai un Gollum perfetto Il gioco rimarrà imperfetto per sempre Se fosse Nampsteam a essersi ritirata Mi dispiacerebbe molto Perché in Baldo ci sono tante cose belle Qua veramente non so cosa salvare Qua non si salva nulla Entra nella gondola Com'è la gondola questa? Cazzo è la gondola? Venezia, Venezia Questa gondola Quella di prima non andava bene Ma perché quella andava in un'altra parte Tu devi prendere la 43 barrate L'allevatore Di cosa? L'allenatore nel pallone Che sta succedendo? È che gli hanno dato un po' di vibrazione alla gondola E però questa produce motion blur su tutto Cioè raga a me mi dispiace che questi hanno chiuso Però non poteva andare diversamente con un gioco così Il problema è che l'abbiano fatto uscire Cioè probabilmente avevano delle deadline da rispettare Però voglio dire un quality control Di qualcuno che dice Oh non possiamo pubblicare questo Perché la gente ci scuta Com'è possibile che un'azienda così grande Con un publisher così grande Ti vede di contrasto Cioè conviene che sarebbe stato più degoroso non farlo uscire E vuoi che nel contratto non ci sia The Delic Che consegnerà un gioco dignitoso Giocabile Sicuramente è giocabile Se poi l'hanno fatto provare il nonno del notaio Un paio di mani L'ha fatto provare Passuratore Immergersi Che cazzo si assicura? Usa il pasturatore Ma io non capisco che stia succedendo Ma non fa niente vai Gioca Sono morto Hai usato il pasturatore Ma che cazzo è successo? Scusa però io devo tornare un po' in là Ma so ste pantegane che mi vengono vicino Madonna le pantegane Ma c'erano le pantegane? Sì perciò muovi Sono tipo i piragnatopo Entro sto gameplay dobbiamo arrivare alla prossima fase Non ci ho rotto il cazzo degli orchi Voglio arrivare agli elfi Ma questo è il pasturatore Schifo Trovo delle affinità con Holy App Vero? Si attacca come Holy App Ma scusa ma non lo poteva fare questo qua no? Stava a un metro e mezzo Tipo quello là dietro non si poteva allungare un bravo No 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 Qua tu sei uno schiavo Cioè tu non fai un lavoro perché c'è bisogno Non fai un lavoro perché ti devono romper cazzo Madonna quanto è brutto e noioso Madonna che parole Cioè raga purtroppo vedete L'anno è solo alla sua metà Siamo solo in estate Eppure la flop list è già quasi piena Come fai a non metterli in flop? Ma è pure il problema Ma che non ce n'è Cioè anche per la storia che si porta dietro questo gioco Impossibile non posizionarlo molto molto alto Se non al primo posto Eh sì A me dispiace perché è praticamente uno spoiler Voi avete già uno spoiler sulla flop list ma Che sono questi? C'è un miglioramento di quasi 100 nuovi soldati Chi parlava? Chi parlava? Cos'era? Perché non ti piace? Non immagini Ma che cazzo di inquadratura è? Per Dio Complimenti Ma poi con che armatura me lo stai dicendo? Cioè ma per un'altra Guarda questa armatura Per cortesia Guardala È passato attraverso lì Resta qui Non muoverti e non toccare nulla Tu puoi andare dove cazzo Guarda C'è tutto il plastico del mondo Ma io come cazzo sa Così è dove metterti proprio c'entrava Da quanto tempo Scusa ma esiste la bocca di Sauron Bocca di Sauron Ma è che ci stanno gli occhi E sono dislocati occhi e bocca e naso Ma no penso che la bocca di Sauron Sia un emissario di Sauron Che parla per lui Immagino che adesso si aprà la porta Esca quel tizio Bravo Molto perspicace Sarei mai arrivando Che cazzo devo fare? Vai adesso puoi scappare dentro Vai dal signore delle candele Che no Non è la bocca di Sauron No la bocca di Sauron era in visita Il signore delle candele è questo che rimane qua dentro Ma per quello si chiama il signore delle candele Capisce sto delle candele? Esatto You must have many questions Perché lui ha fatto meglio degli altri? Ci sono tre modi per mettere a tacere le domande Una strada è la paura Due Un cortello Tagliare la lingua è molto efficace Non sei forte Non sei saggio Questo del tutto è evidente Madonna che brutte le espressioni Guarda le espressioni Non puoi aver organizzato quell'atto di sabotaggio da solo E di sicuro non puoi essere stato quel re fragile che sta domandendo a morte Almeno non da solo Guarda è un re Un uomo fragile Fear Knife Answer Which one do you think we should apply? Eh risposte Come enter sto giocando con lui sempre Risposte coltello paura Eh sì sono le tre chance che lui ti ha dato Coltello Ma guarda ti tagliano la lingua se fai coltello Non possono mai tagliare la lingua Gollum L'hai visto in Signore degli Anelli Non è successo Giusto Dai Ma il ponte ha travolto buone e brave persone Devono cadere delle teste Non la tua di testa Questo l'abbiamo stabilito Il tuo numero è sulla lista Ma che cazzo di lista Non lo so Non sto seguendo È troppo brutto Quindi non potendo essere la tua Quale testa sarà? Vuole che gli diamo dei nomi Oppure una prova L'orco della miniera O diciamogli la verità Digli la verità Vediamo se ci usciamo da tutta puttana Ora con Bingy Gollum Non può mandarci alla torre Ma Può strappare il cuore di Smigol dal suo petto There are other ways to die He could rip her heart out with his claw He won't Someone wants us to live Someone very high The eye The eye wants us to keep our promise So What if he's testing us? What if he already knows the answer? How would he know? Uccellini I suoi uccelli ci servono Orcs His guards told Gli orchi glielo diranno Niente ma non si può vincere sta battaglia Gollum ha vinto la discussione Non so come abbia fatto a vincere la discussione Perché non l'ho capita nemmeno io Sì infatti Che pazzo Psicopatico Però Settimane Cioè ma sta scalata sociale di Gollum no? Ma non si capisce È avvenuta in cinque minuti Cioè abbiamo fatto la spia E allora stiamo qua Ci ti giuro che io non riesco a seguire la storia C'è la guerra O c'è la guerra Quale delle due Vedi arrivare? Fa troppo Fa pure di scattini Capito? Che palle Vada rimpiango tantissimo kingdom Calo L'emozione di arrivare al campo dei soldati Se Razik ti vede da lontano Si alza e scappa Cioè quelle cose Quelle cose non capiteranno mai più ragazzi Questo è il forno Da quel che ho capito Si tratta di trovare La temperatura No ti prego no Porca puttana Ogni uovo ha bisogno di una temperatura diversa Quale uovo scegliere Il compito tuo Quindi adesso siamo degli allevatori Allora L'uovo Porco Uno vuole guardare la mannaggia C'è la testa davanti Allora Nuovo il fuoco Più vento E uguale fiamma Ma va Una pentola La riempi dentro il marmack Poi ci getti i uovi dentro Uovo dentro Ma che due coglioni ragazzi Pesantissimo Dove cazzo è l'uovo L'ho trasformato in uovo bianco Povreto Io ti giuro Non saprei ripetere l'operazione Allora Lascia stare Non hai la mia idea Di cosa stai facendo Ma guarda un po' Poi faccio una piccola ricerca online Prendi un uovo dalle gabbie Piazza l'uovo Nella stazione del colore Scegli il colore Pesso Uovo bianco Quattro ceppi di legno E due pompate Quattro E due pompate Ma come dovevamo arrivarci? Non lo so Non ho idea Io non lo so Non ci sono indizi Su questo E' carino Mamma mia Piccolino Che nome di merda Un nome di merda Meglio un angelo Ma si Tu vuole che arrivi agli elfi Ma qua Porca troia Ma forse siamo E te che siamo Scemi in culo Non lo riusciamo Poi lui è decontestuale Proprio tantissimo Non c'entra nulla Sembrava una versione realistica Di Angry Birds Lui Anni dopo Anni dopo Cioè raga Sto gioco Ha ucciso Uno studio Di svilu L'ha ucciso Usa l'uccello E' perché Allora puoi scrivere così Usa l'uccello per prendere la statue L'adattamento ragazzi è importante Che cazzo devo fa Parto io Devi abbandonare la compagnia Invia compagno sulla jarra là E l'ho chiamato Ma su sei voti Gracchia silenziosamente Un figlio da puttana Tu usa l'uccello Niente mi schifa Io non so che devo fare Ah devi andare all'uccello Di merda Comunque E' sempre più incomprensibile Questo è uno di quei giochi Che se io avessi iniziato La mia carriera da videogiocatore Con questo avrei pensato I videogiochi non fanno merda Cioè come faccio a zumbare Allora Aspetta, aspetta Guardati bene Che cosa faccio a dire Una cosa giù l'ho notata Che c'era il muro Eh non lo so Non qua Sotto Se tu guardi Poi Pro Sto figlio di una puttana Non preoccuparti Si abituerà Ma come cazzo Ci arriva là sopra Continua Continua Seguilo Continua Seguilo Vedi che quasi sale Se non sai come andarlo Devi adescarlo Vai a prendere un po' di pane Vai Prendi il pane Agli uccelli piace il pane Perché altro è il grano che c'è dentro Madonna quanto fai schifo Sembra fatto di merda L'uccello Si sono messo con la faccia Sembra composto di merda Lui Cicacosova Teabag Ho capito questa dovrebbe essere Una parte emozionante In cui c'era L'uccello L'uccello Invece è fatta con l'uccello Questa parte Inizio alla fine Vabbè ragazzi Io bloccherei qui Perché siamo davanti a una nuova fase Bello questo gameplay Molto molto bello Noi ci vediamo Palla guarda È una rotta di coglioni senza più Però dobbiamo arrivare alla fine Noi ci vediamo alla prossima ragazzi E intanto contentissimo Che non verrà mai bacciato Mamma mia